A Taranto è un momento molto delicato, visti tutti gli arresti clamorosi che ci sono stati di recente e il crollo anche della maggioranza in provincia, di tutta la giunta provinciale. Come commenta queste notizie lei? Io credo che sia stato un gesto di grande responsabilità istituzionale quello delle dimissioni. Penso che la magistratura farà ovviamente le sue indagini e le sue valutazioni e abbiamo piena fiducia ovviamente nell'operato dei magistrati tarantini e mi auguro ovviamente che questa vicenda si chiarisca nel più breve tempo possibile, che siano accertate le responsabilità se ve ne sono e le estranetà se si verificano.